Sicuramente è una partita da giocare, abbiamo delle chance, abbiamo delle buone chance direi e spero che si riesca ad ottenere qualche risultato anche nell'arco dei prossimi mesi. Lei poi si è detto non fiducioso sul fatto che possa esistere una borsa unita a livello europeo? Diciamo che l'evidenza dei fatti in questo momento suggerisce che non è ancora forse il momento. Sono passati 16 anni, ricordavo, dal primo tentativo e non è successo niente. Oggi le borse sono tutte separate, l'unica che ancora all'interno di una partnership siamo proprio noi con la borsa inglese che paradossalmente tra l'altro sta uscendo dall'Europa. Nella bozza del decreto crescita si parla anche di incentivi al mercato, le fonti alternative di finanziamento. Cosa si aspetta? Vediamo, infatti lo guardiamo con molto interesse perché tutto quello che riguarda gli incentivi che possono andare a favorire la creazione di un mercato di capitali ci vedono ovviamente molto interessati. Vediamo cosa viene fuori.